le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di giovedì 27 febbraio ariete la luna odierna è ancora favorevolissima sotto tutti i punti di vista sul lavoro potete contare su un carisma unico e in amore continuate a vivere una favola toro l'amore l'affetto delle persone care sono un grande sostegno per voi in questo momento non abbiate paura di lasciarvi andare e magari di chiedere aiuto gemelli se avete un'idea da mettere in pratica o siete alla ricerca di un finanziamento non esitate a chiedere in questo momento vi sostiene anche un pizzico di fortuna cancro la luna ancora difficile rende la giornata piuttosto pesante anche perché voi non vi sentite a posto fisicamente lo stress si fa sentire il doppio su persone emotive come voi leone luna molto bella vi fa respirare un'aria nuova vi sentite più forti più liberi state vivendo un momento un po particolare perché sembra che qualcosa vi frena vergine mercurio tende ad offuscare un po la vostra mente quindi non meravigliatevi se nei prossimi giorni vi capiterà di commettere un errore davvero inusuale per voi bilancia ancora una luna opposta che ha il potere di riportare a galla non solo alcune vecchie ruggini nella coppia ma anche qualche vostro cronico acciacco fisico scorpione marte vi mette addosso una carica incredibile avete delle capacità fuori dal comune in fatto di strategia ed è per questo che molti nemici conosceranno la sconfitta sagittario è un'altra giornata molto positiva che vivrete con il sorriso sulle labbra l'amore vi rende felici perché finalmente arrivano gli stimoli che da tempo stavate aspettando capricorno in famiglia dovete cercare di essere più morbidi comprensivi la linea dura non paga in amore invece siete incredibilmente disponibili e molto romantici acquario quando ritrovate la vostra abituale verve siete davvero delle persone uniche ma in amore viaggiate sempre con il freno a mano tirato la serata però si pronuncia spensierata pesci cercate di limitare le spese visto che molto probabilmente sarete costretti a fare un investimento per la casa la luna parla ancora di ottimi affari da concludere e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus asia vi augurano secondo corso ai mostre ai i o oss